Oggi siamo alla giornata di chiusura dell'esame per quanto riguarda i corsi di garanzia giovani, oggi si chiude invece il corso di tecnico della ripresa e del montaggio dove io sono molto soddisfatta per la sfida di questo corso e ringrazio voi tutti della redazione di Sette TV che siete stato al mio fango e avete valorizzato con la competenza la riuscita di questo corso dando la possibilità anche di avere docenti di qualità tra cui Giorgio Scelza e il dottore Milano e grazie anche all'assistenza tecnica devo dire di te insomma Carmela che hai coadiuato insieme a me per dare al massimo in queste 200 ore perché chiaro sono solo 200 ore sappiamo bene che per dare un valido contributo ed essere competenti ci vogliono tante ore di più ma io sono dell'avviso che al di là dei corsi di formazione la competenza si acquisisce attraverso l'esperienza quindi non c'è nessun corso che possa darti il massimo del massimo e noi siamo riusciti a coniugare le due esperienze quella lavorativa quindi stare sul set e quella delle lezioni frontali in aula io sono soddisfatta e spero però al di là delle lezioni e del contributo io mi auguro che questi nove allievi che oggi escono da questa classe possano utilizzare fino in fondo quello che è la possibilità nel mondo del lavoro perché effettivamente passione in questo settore e voi in realtà io dico sempre a tutti gli imprenditori e alla società in generale per aiutare i giovani dell'oggi non quelli del domani perché io dico sempre che i giovani sono il presente e non il futuro che possiate aprire i cancelli delle vostre aziende per dare la possibilità dell'utilizzo di questi giovani affinché possano vivere l'esperienza usufruendo di quello che è il bonus occupazionale che Garanzia Giovani offre loro ecco FKT una realtà davvero vicina al territorio vediamo ci sono anche i ragazzi che sono impegnati nel progetto alternanza scuola lavoro ecco una bella realtà del territorio cilento abbiamo i giovani del secondo anno dell'alternanza scuola lavoro perché FKT è un centro fisiochinesi terapico quindi ragazzi che si vogliono accostare alle materie sanitarie e vivere l'esperienza possibile di quella che può essere il futuro siamo qui ad ospitarli sperando di dare un valido contributo visto che l'altro giorno c'è stata la manifestazione contro un'alternanza che ai giovani non li fa bypassare attraverso quello che è il processo del tirocinio formativo noi ci auguriamo di dare anche su questo di essere fiore all'occhiello però è chiaro che non dipende solo da noi noi ci auguriamo di dare anche su questo di essere